Siamo con la dottoressa Yolanda Lotta, assessore agli spettacoli del comune di Leporano, nonché assessore alla comunicazione istituzionale. Questi cori natalizi, la presenza delle parrocchie è certamente una idea innovativa. Vediamo un po' la genesi di questa iniziativa, come è nata, come si è sviluppata. Abbiamo voluto considerare questa opportunità di donare al nostro territorio questa rassegna dei cori, che prevede quattro cori della provincia ionica. In questi quattro cori vogliamo dare il via all'avvento natalizio. Sono quattro giornate di avvento, quattro domeniche di avvento e hanno partecipato a questo insieme di... Il comune di Leporano, che è il comune Capofila, poi il comune di Faggiano, il comune di Grottaglie e il comune di Talsano. Più che altro che i comuni, le parrocchie, perché abbiamo proprio identificato all'interno delle parrocchie, perché sono cori parrocchiali. E niente, partiamo proprio con questa apertura, l'apertura del Natale qui a Leporano. E io colgo l'occasione per augurare a tutta la mia comunità un sereno Natale, serene feste, ma soprattutto tanta salute, perché in questo momento di congiuntura economica che ci troviamo c'è bisogno di tanta, tanta, tanta pace.